Non è tutto oro ciò che luccica. È un vecchio proverbio, ancora in uso, e che ciclicamente, nei fatti di cronaca o nella storia umana, trova conferma. Naturalmente i proverbi sono delle piccole perle di saggezza popolare. E potremmo applicare questo particolare proverbio anche a un pontificato, esatto, a un papa, a un rappresentante di Cristo in terra, vicario di Cristo, successore di Pietro, chiamatelo come volete. Questo papa ha condotto un lunghissimo pontificato, quasi 27 anni, un periodo molto lungo, e dunque ha attraversato un'epoca estremamente complessa. Ma fu anche un papa che oggi viene ricordato per tutto ciò che di buono ha fatto, che è stato elevato agli onori degli altari da parte della gerarchia ecclesiastica, ma la cui figura conserva, qua e là, delle macchie, dei punti d'ombra, delle circostanze in cui manca chiarezza, manca a volte la volontà di fare piena luce, o mancano gli elementi per avere un quadro completo della situazione. Questo papa, questo pontefice, si chiamava Carol Voitigua, meglio noto come Giovanni Paolo II, e questo video è dedicato proprio al tentativo di far luce su tutti i coni d'ombra del suo lunghissimo pontificato. Innanzitutto un'avvertenza, questa non è una biografia di Carol Voitigua, non lo vuole essere e non lo sarà. Questo è un tentativo di analisi, un'analisi che parte da tante, tante, tante domande, domande cui non abbiamo risposta. Prima di procedere con il video, però, diamo il benvenuto al nostro sponsor, NordVPN, che ha deciso di sostenere il nostro canale, che molto spesso tratta argomenti molto, molto delicati. Ebbene, con NordVPN puoi navigare in internet in tutta tranquillità, sapendo che i tuoi dati sono al sicuro da hacker e da occhi indiscreti. Molto importante, no? La tecnologia di criptografia avanzata mantiene la tua attività online privata e la rigorosa politica di no-log garantisce che le tue informazioni personali non vengano mai condivise. Con NordVPN puoi accedere ai contenuti bloccati da qualsiasi parte del mondo. La nostra rete globale di server ti consente di connettarti a un server in qualsiasi paese, offrendoti la libertà di navigare in internet senza restrizioni. In descrizione, NordVPN, bar dentro la storia, vi offriamo un'offerta imperdibile, uno sconto del 65%, oltre alla garanzia di rimborso di 30 giorni, VPN sicura ed alta velocità, protezione anti-malware e il blocco dei tracker, per farti godere di un'esperienza di navigazione più sicura, fluida e veloce su tutti i siti e su ogni dispositivo. Karol Wojtyla sapeva, e se sapeva, perché si è comprovato così? E se non sapeva, perché non ha chiesto informazioni? E se alla fine sapeva, e in parte non sapeva, o immaginava, o non era certo, perché ha preso determinate scelte? Scelte che pesano su tante, tante, tante persone, che hanno portato a sofferenze, che hanno legittimato dittatori e non solo, che hanno causato anche i risesti finanziari. Perché? E perché oggi la Chiesa Cattolica non dà delle risposte chiare? Perché la Chiesa ancora non chiarisce, non fa luce, ma preferisce trincerarsi dietro il ricordo di ciò che di buono ha fatto Karol Wojtyla e della sua sofferenza umana, degli ultimi anni del suo pontificato, molto difficili, accompagnati da una sofferenza fisica, dalla malattia e infine dalla morte. Perché? Il pontificato di Karol Wojtyla, che inizia nel 1978, succedendo ad Albino Luciani, il papa del sorriso, il papa morto dopo pochissime settimane della propria elezione, si è contraddistinto, almeno per i primi 12 anni, da un fortissimo impegno geopolitico, un impegno nel cuore della guerra fredda, un impegno che il papa polacco, così era chiamato all'inizio, voleva far diventare terreno di scontro frontale con la Polonia da cui proveniva. Non è un mistero che nel corso dei primi anni dell'80, mentre la repressione in Polonia diventava sempre più violenta, lo stesso Wojtyla volesse premere sui governi occidentali affinché avvenisse qualcosa. Aveva minacciato Wojtyla addirittura di trasferirsi con tutto il Vaticano, temporaneamente a Cracovia, obbligando quindi le potenze occidentali a fargli da scudo, sarebbe stato forse l'inizio di una terza guerra mondiale. Per fortuna così non fu. Eppure l'acceso anticomunismo di Carol Wojtyla aveva portato a certe situazioni che ancora oggi fatichiamo a spiegarci. Pensiamo a Sud America, quel subcontinente enorme, sterminato e fortemente cattolico. Un subcontinente che a partire dalla fine degli anni 60, inizio 70, fino alla fine degli anni 80, era diventato una sorta di enorme dittatura continua. Nel 1987 una visita pastorale di Wojtyla a Santiago, in Cile, era divenuta occasione di legittimazione per Augusto Pinochet, in generale che 14 anni prima aveva soffocato nel sangue la democrazia cilena, la fragile democrazia cilena, col famoso golpe dell'11 settembre che era costato la vita al presidente Salvador Allende. Wojtyla non poteva non sapere cos'era accaduto, come Pinochet avesse preso il potere e come lo esercitasse. Diversi biografi, alcune fonti del Vaticano, successivamente avrebbero cercato di riscrivere la storia. Avrebbero detto di un Wojtyla raggirato da Pinochet, un Wojtyla ingannato, convinto all'ultimo a farsi scattare delle foto mentre stringeva la mano al dittatore, anche se in fondo non lo rispettava. Ma altre fonti smentiscono tutto ciò. Ci sono dei documenti, delle lettere scritte da Wojtyla a Pinochet nel 1993 per degli auguri e successivamente, alcuni anni dopo, in seguito all'arresto in Gran Bretagna con la richiesta di estradizione da parte del governo spagnolo, che smentiscono il fatto che Wojtyla non sapesse, non conoscesse Pinochet, fosse all'oscuro di quello che aveva fatto o che comunque fosse stato raggirato. E un'altra macchia è quella del Vescovo Oscar Romero, il Vescovo Salvador Regno, al fiere della teologia della liberazione, quella corrente fortissima della Chiesa Cattolica in Sud America, in Centro America, che si proponeva come proposta salvifica nei confronti della povera gente, che combatteva contro la fame e contro le dittature. Una lettura evangelica lontana dei palazzi del potere e riportata tra gli ultimi, tra i bisognosi. Una lettura che però non piaceva alle altre sfere ecclesiastiche e men che meno al pontefice stesso, che in più occasioni aveva ammonito Oscar Romero, che era Vescovo di San Salvador, a manifestare maggiore vicinanza e comprensione nei confronti di un governo brutale come quello salvadoregno. E nulla era accaduto in sede vaticana. Nemmeno quando dei sicari inviati dal maggiore Don Guisson, il capo del partito estremista Arena, nonché comandante degli squadroni della morte a San Salvador, erano entrati nella cattedrale di San Salvador una domenica nel pieno di una funzione religiosa, e avevano sparato in testa e ucciso Oscar Romero. Niente. Nessuna reazione. Perché? Perché Romero era visto come un sovversivo, un simpatizzante del comunismo. Insomma, un avversario interno. Meglio non occuparsi della vicenda. E questo anticomunismo acceso di Giovanni Paolo II lo aveva portato anche a compiere altre scelte discutibili, che non vuol dire certo che fossero corrette a prescindere, magari giustificabili in una certa ottica, ma molto, molto dure da digerire. Pensiamo allo scandalo Ambrosiano. Diverso tempo dopo lo scoppio dello scandalo, il faccendiere Francesco Pazienza, che abbiamo già incontrato in un nostro video dedicato alla sua ultima autobiografia, ha ammesso il coinvolgimento del Vaticano nello scandalo stesso. Ha ammesso che quei soldi sottratti all'Ambrosiano, oltre un miliardo di dollari dell'epoca, erano stati sottratti per essere inviati in Polonia, a sostegno di Solidarnoche, il sindacato cattolico cappeggiato da Lech Wałęsa, il saldatore di Danzig, per opporsi al regime del generale Jaruzelski. Per quanto lo scopo fosse nobile, bisogna dire che quei soldi non erano del Vaticano, quei soldi non erano di Karol Wojtyla. Quei soldi appartenevano a tanti soggetti diversi. Sì, appartenevano anche alla mafia, che utilizzava D'Ambrosiano per riciclare parte dei propri proventi, mafia, la banda della Magliana, Licio Gelli, il capo della P2, ma anche a tanti risparmiatori italiani, che improvvisamente si ritrovarono in crisi. Possibile che Karol Wojtyla non sapesse nulla, non sapesse chi fosse Roberto Calvi, chi frequentasse, quali fossero i suoi metodi, quali fossero i suoi obiettivi, cosa facesse il suo vescovo, Monsignor Marcinkus, che abbiamo già incontrato, che abbiamo già dedicato un video appositamente, che potete rivedere nel canale. Possibile che non sapesse. Possibile che non sapesse che Marcinkus avesse firmato delle lettere di patronage, che ammettevano la proprietà da parte dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, della galassia di società panamensi, che avevano ricevuto d'azioni continue da parte della galassia estera dell'Ambrosiano, a cominciare dal commerciale dei Nicaragua, dal banco ambrosiano andino nel Perù, e dall'Ambrosiano Overseas Limited Bank di Nassau, nelle Bahamas. Possibile che Carlo Voitiva non sapesse. E se non sapeva? Per quale motivo, un annetto dopo, lo stesso Voitiva proclamò un anno santo straordinario, un giubileo, quando l'ultimo giubileo era stato svolto nel 1975. I giubilei erano nati in pieno Medioevo, per rimpolpare le casse dello Stato del Vaticano. Si erano inventati le indulgenze plenarie, la possibilità di ottenere, tramite un pellegrinaggio ovviamente costoso, una lavanda dei peccati. Quei pellegrinaggi, quegli anni santi, quei giubilei che dovevano essere effettuati ogni 50 anni, però erano diventati una scadenza 25ennale. Però con delle eccezioni, perché al Pontefice era consentito quella di proclamarne qualcuno straordinario. Ebbene, un anno dopo il crack ambrosiano, ecco il giubileo straordinario. Perché? Forse perché nel frattempo Giovanni Paolo II aveva deciso di elargire un po' di milioni di dollari alla causa del fallito ambrosiano per, questa fu la giustificazione ufficiale, alleviare le sofferenze dei poveri risparmiatori che erano stati vittima del crack. E per corroborare questa uscita di cassa, ecco arrivato un giubileo straordinario. Possiamo dunque dire che Karol Wojtyla non sapesse nulla? Difficile. Io non me la sento di dire che non sapesse nulla. E poi ci sono altre questioni. C'è la questione di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana che scompare nel nulla a Roma a 15 anni di età. Una vicenda di cui si parla a lungo. Si è tornati a parlare anche di recente. Una vicenda con troppi lati oscuri, con troppe zone d'ombra, e con l'intervento di tanti personaggi ambigui, con l'ombra della banda della Magliana, di Renatino De Pedis, l'ombra dei lupi grigi, dell'attentato subito dallo stesso Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma nell'81. La figura del cosiddetto americano, il telefonista con accento Yankee, che secondo alcuni sarebbe stato lo stesso Marsinkus. Una vicenda che ci riporta, appunto, a quell'attentato in piazza. L'attentato subito per mano di Aliyah Chka, un esponente dei lupi grigi, l'organizzazione di estrema destra turca, ma, si dice, armato dai servizi segreti bulgari, cioè da un satellite dell'Unione Sovietica. Perché? Perché i sovietici stessi ritenevano Karol Wojtyla un pericolo. E perché i bulgari, forse per mettersi in bella mostra, in buona luce, avevano deciso di lasciar fare a un sicario un po' pazzo e con delle evidenti manie di protagonismo. Ma quella vicenda, l'attentato, poi la vicenda di Emanuele Orlandi nel mezzo Loior e poi Pinochet, prima ancora il vescovo Romero, non esaurisce la lista di macchie sulla veste bianca del Papa. Ci sono gli scandali di pedofilia che già all'epoca erano ben conosciuti. Scandali che la Chiesa aveva iniziato a soffocare in vario modo. E poi c'era l'AIDS, la sindrome di immunodeficienza acquisita, che fa la sua fragorosa comparsa sul globo proprio negli anni Ottanta e che diventerà una piaga, una vera e propria pandemia. Mentre tutti i medici chiedono che si faccia campagna di sensibilizzazione per contenere la diffusione del contagio, anche attraverso l'utilizzo del profilattico, la Chiesa, per bocca del suo pontefice, cioè Karol Wojtyla, oppone una serie di no. E sono dei no, che soprattutto in Africa costeranno milioni di vite. Poi c'è l'Opus Dei, quella congrega nata dal prete reazionario spagnolo José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote che era già assurdo agli onori o ai disonori delle cronache per aver appoggiato la dittatura franchista e per essersi scontrato con un predecessore di Vojtyla al soglio di Pietro, ossia Papa Paolo VI, Papa Montini. Escrivá de Balaguer, dopo il conclave, esclamò sia dannato e brucia l'inferno a chiunque abbia votato per Montini, che era visto dal fondatore dell'Opus come un nemico, un po' per le sue posizioni estremamente moderate, un po', perché Montini aveva rifiutato all'obra, già all'epoca, lo status di prelatura personale. Ebbene, lo status sarebbe stato attribuito da Vojtyla, che forse scontato dall'attentato, forse impaurito perché resosi conto di non potersi più fidare di nessuno all'interno del Vaticano, forse perché disorientato da quello che era accaduto tra l'Ambrosiano e lo Ior. A un certo punto aveva ceduto, aveva deciso di dare l'agoniata prelatura personale all'obra, che da quel momento in avanti sarebbe diventata sempre più potente e sempre più arrogante. Quella è un'altra grande, grandissima macchia per quanto riguarda il pontificato di Vojtyla. Una macchia che accompagna anche due processi di beatificazione decisi, sempre dal Papa Polà. Quello di Pio IX, un pontefice che aveva difeso il dogma dell'infallibilità del Papa, ma che, peggio ancora, era accusato di simpatie verso lo schiavismo, l'antisemitismo e la tirannide. Pio IX era stato l'ultimo Papa Re e come tale si era comportato distribuendo scomunica pioggia, firmando delle incicliche molto dure, non solo nei confronti delle società liberali europee dell'epoca, ma anche nei confronti delle spinte verso l'abolizione appunto della schiavitù e che era rimasto ben distante da un rapporto sereno con quelli che sarebbero stati chiamati i fratelli maggiori ebrei. L'altro processo di beatificazione che incontrò diverse facce dubbiose per non parlare delle critiche fu quello di Monsignor Aloysio Stepinaz, l'ex vescovo di Zagabria, accusato di simpatie nei confronti del nazifascismo o addirittura di connivenza nei confronti del regime Ustasha. Durante gli studi del processo di beatificazione di Stepinaz effettivamente diversi studiosi portarono a conoscenza di Vojtyla quello che era avvenuto nell'enorme complesso dell'ex campo di concentramento di Yasenovac, l'inferno in terra nei Balcani. Un campo che era stato gestito per un po' di tempo addirittura da un frate, padre Miroslav Filippovic Maestorovic, chiamato anche frademonio, non poteva non sapere il papa, non poteva ignorare il fatto che Stepinaz avesse coperto in parte tutto ciò che era avvenuto durante il regime Ustasha. È vero che sulla figura di Stepinaz si è a lungo dibattuto se fosse davvero l'arcivescovo del genocidio o se fosse stato malinterpretato, se i suoi tentativi di salvataggio di ebrei fossero sinceri o solo dei tentativi di conversione forzata, così come era avvenuto con i serbi ortodossi costretti ad abbiurare e ad abbracciare il cristianesimo cattolico. Ma, caro Luitiwa, anche in questo caso, fece orecchie da mercante. Non si curò di tutto ciò che avveniva, non si curò delle critiche, delle avvertenze, non si curò a meno delle ricerche degli storici che lo mettevano in guardia anche nei confronti di padre Miroslav Draganovic di cui abbiamo già parlato che favorì la fuga degli Ustasha in Sud America. Non se ne curò e andrò avanti per la sua strada. Quindi, facendo un bilancio, cos'è stato il pontificato di Giovanni Paolo II? È stato un pontificato complesso, un pontificato che ha accompagnato il processo di Glasnost e perestroika ad Est, processo però creato da Mikhail Gorbaciov. È stato un pontificato che ha visto la caduta del mondo bipolare, un pontificato che a un certo punto si è posto in maniera decisa contro le mafie, con un discorso chiaro, potente e coraggioso dello stesso Vojtiwa in Sicilia contro i boss. Ma è stato anche un pontificato accompagnato da tante, tante, tante macchie. Macchie che restano indelebili al pari degli interrogativi. Perché? Perché certe scelte? Perché difendere dei tiranni come Pinochet? Perché non salvare Oscar Romero? Perché lasciare che la vicenda ambrosiano degenerasse? Perché Emanuele Orlandi? Perché l'attentato? Perché le beatificazioni? Perché? Sono domande qui non possiamo avere risposta per i motivi che sapete. Ma concedetemi una riflessione. Come detto Papa Pio IX era uno strannuo difensore del dogma dell'infallibilità del Papa. Ma il dogma non ha nulla di divino. Il dogma è un'invenzione dell'uomo che decide sua sponte di corroborare il messaggio divino con un proprio contributo. Un po' come mescolare l'acqua con il vino. si sa cosa avviene. Si cambia. Si cambia la purezza iniziale ed è quello che è avvenuto. Carlo Voitiva non era infallibile. Non era una divinità e come tutti gli uomini come tutti gli esseri umani era soggetto al peccato originale quello dell'errore e di sbagli ne ha fatti tanti. Ha fatto ovviamente grandi cose ha fatto molto per molti ma in altri casi non ha fatto nulla o ha fatto meno di quello che avrebbe potuto fare o ha fatto qualcosa di contrario a quello che sarebbe stato giusto. come tutti gli uomini ha sbagliato però giustamente per comprendere una figura storica non possiamo fermarci ai meriti dobbiamo analizzarla tutto a tondo anche nell'incongruenza solo così riusciamo a capire la personalità la persona il ruolo e il periodo che ha vissuto solo così possiamo magari anche in futuro comprendere meglio tutta la storia umana. grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.